Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale! Quest'oggi... Oddio! Un attentato! Non ho visto il creeper! Va bene, quest'oggi esplodiamo su Minecraft! Dobbiamo ricostruire tutto velocemente! Ok, sì, scusate l'intro un po' brusca, un po' tempestosa, però è capitato, questa zona sta diventando sempre più cattiva, molto molto cattiva! Allora, questo non ci serve più, ci serve della cobblestone e poi rifare la parete, fortunatamente ce l'abbiamo già qua, ci viene un po' più facile! Dunque, dov'è la cobblestone? Non ho più cobblestone? Ah no, scusate, l'ho sposata di qua! Eh sì, 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 la vecchiaia, la vecchiaia! Perfetto! Dunque, dunque, andiamo qui, ripariamo questo bellissimo muro! Track, uno non ci serve, dovrei avere del vetro qui, di scorta! Quindi rifacciamo la vetrata, ok! Era così? Sì! Forse c'era... era divisa in due! Ma ormai la lasciamo così! Allora, questo, questo... E questo... Lo piantiamo... Qua! Perfetto! Oggi cerchiamo... Cioè cerchiamo... Dobbiamo fare... Il benedetto compressore elettrico! Ora, ho recuperato tutti i materiali possibili, come potete vedere dalla... Dalla... Esatto, dall'esperienza, sono saltato in aria. Sono morto per ben due volte dentro la lava scavando per le risorse, come la classica morte di Minecraft. Esatto, esatto. Dunque, in teoria dovremmo avere tutto e possiamo fare finalmente il compressor elettrico, quindi non usiamo più... Esatto, il carbone. Here we go! Ce l'abbiamo già qua. Allora, vediamo un attimo. Questo funziona come quello? Si alimenta sempre da quel lato lì. Ok, quindi a questo punto io direi di sostituire questo. Che onestamente non lo usiamo più con questo. Esatto. Adesso abbiamo il compressore elettrico. Questo lo mettiamo qua. Perché non lo utilizziamo. Questi sono cavi che potremmo utilizzare per sostituire questi, ma onestamente non ci serve. Lassopra ho messo anche una batteria. Ok, perfetto. Ora, la seconda cosa che volevo fare, oltre al compressore... A walkway. What? Ok. Ora dobbiamo cominciare a costruire queste levy plate. Quindi svolgono il bronzo, l'alluminio e lo steel. Allora, vediamo un attimo. Io c'ho il bronzo, l'avevo fatto. L'alluminio, il bronzo. Quello che ci manca è appunto lo steel. Quindi mettiamo subito a produrre... Ah, ok, sì. Stavo fabbricando anche qua dello steel. È finito... È finito il carboncio. Ok. Questo infuser... Sarebbe bello... Non so cos'è l'upgrade. Non ne ho la più pallida idea. No, non lo so. Forse è una batteria. Supporto e muffling. Questo cos'è? Nessuna selezione. Non lo so. Ok, quello l'abbiamo fatto. Quindi passiamo al... Dov'è? Ah, adesso è qua. Adesso mi devo ricordare che il compressore è qua. Ok. Quindi, incominciamo a produrre... Sembra più veloce? Questo è già finito? Sì, perfetto. Ora, da questo vogliamo ricavare... Se non mi ricordo male era così? Dal Richen Iron vogliamo ricavare... Lo steel dust. Perfetto. Quindi, prendiamo 10... E produciamo lo steel dust. Ci siamo. Ah, ma questo raddoppia tutto! Ah, questo era una cosa che mi serviva. Allora, noi dobbiamo farne uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Allora, uno, due, tre, quattro. Oddio, ma sono tantissimi. Quattro per quattro. Quindi siamo a 32, 32, 33, 34, 35, 36, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici e quattordici. 44. 95, 46, 47, praticamente cinquanta di questi. Tutto questo ne dobbiamo produrre 50, signori. E se è la morte, praticamente, perché... Saranno tanti cinquanta. Ok. Iniziamo a produrli. Quindi bronzo, alluminio e steel. Quindi... Ma si producevano... No, si producono nel compressor. Quindi... Questo... 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 No, c'è qualcosa che non mi quadra. Ah, vi vuole così. Quindi... Questo va qua, questo va qua, questo va qua. Ok. Produciamo questo. E da questa... Ci mettiamo... Un po' di carbonchio. Ma c'è la via il carbonchio? Perché si è fermata? Perché non ha più corrente. Perché questo... Infatti no power. Perché è calata la notte. E quindi... No power. E la batteria... Se è andata a benedire. Quindi dobbiamo fare così. Dormiamo e aspettiamo... L'indomani. E buongiorno di nuovo qui su Minecraft. E continuiamo a vedere se... Questo produce... Sì. Running idle. Poca batteria. Perché troppi strumenti non ce la fanno. Dobbiamo fare un secondo pannello solare. Altrimenti... Altrimenti... Non possiamo... Allora, advanced. L'abbiamo fatto quello lì, advanced. Andiamo subito a controllare se quello è un advanced. Creeper da qualche parte. Eccolo qua. Ciao creeper. Siete proprio sempre vicini a casa mia. Sembra che ci fosse il miele. Ok. Saliamo. Andiamo a vedere che jump... Andiamo a vedere che è la nostra bellissima antenna. Che tipo è... Che tipo è? Advanced and solar panel. E qui c'è la sua batteria. Advanced and solar panel. Quindi dobbiamo fare un altro. Sarà un po' duretta farne un altro. Perché... Se non mi ricordo male... Advanced and solar panel richiede un bel po' di oggetti. Quindi... Allora... Vediamo un attimo. Prendiamo questo. Ce lo mettiamo nei preferiti. Con l'aha. Allora... Vabbè vuole gli steel. Questi. Il buffer. Che ci vuole un diamante. Silicon. E una redstone. Quindi... Facciamo subito... Uno e due. Non so perché ho fatto sta cosa. Perché mi sa che mi sono confuso. Perché vuole un redstone repeater. Quindi vuole un... Repeater. Ah vabbè giusto. Dai ci siamo. Ok. E poi delle stone. Che ci abbiamo qua messe da parte. Da qualche parte. Messe da parte. Da qualche parte. Io mi ricordo di avercele... Avute. Però non le trovo. Dovremmo mettere un po' meglio il nostro inventario. Eccole qua. Quindi repeater. Aggiungi angelo. Ok. Via. Dopodiché... Questo vuole... Ok. Lo mettiamo lì. Prendiamo i due pezzettini di Raw Silicon Valley. E qua. Quindi. Raw Silicon Valley. Questo. Ah ci serve un diamante. E un diamante. Uno solo. Grazie. E un diamante. E lui ranna e crea quello che deve creare. Crea. Crea quello che deve creare. Poi ci servono il compresso Steel. Me ne servono due. Quindi li rubo da qua. Ma lui sta creando no? Ok. Steel. 4. Ok. Il pole ce lo dovremmo avere. Perché mi ricordo che ne avevamo creato uno in più. Quindi questo e questo vanno via. Dannazzale ci serve un compresso Steel. Ok. Questo lo ha creato. Perfetto. E... Ok. La Steel si crea. Ok. Non... Non... Ehm... Cap Power. No. C'era la Steel. Non mi ricordo più come si crea. La Steel. La Steel. La Steel si tiene col compresso. Ok. Via. No. Non mi ricordo più. Mi sono perso e confuso. No. No. Lo Steel si creava con la fornace. Magari. Ha più senso. Esatto. Allora raccogliamo tutti questi bellissimi materiali. Ok. Li andiamo a depositare. 1, 2, 3, 4, 5. Noi abbiamo i D-plate qua. Roba, roba grossa. Roba della NASA. Ok. Va bene qua. E aspettiamo che questo mi crea. Va bene anche 2 nel frattempo. Che io creo uno Steel subito. E qui. Incominciamo a creare 4. Ah ma c'è anche questo. Vero. Me l'ho dimenticato. Questo si crea con dei cavi e il glass. E il glass dovremmo avercelo non qui ma è sopra. Qua. Scendiamo. E creiamo questo. Io mi l'ho totalmente dimenticato di questo. Eh sì diamante e lapislazzoli. Vero? Oh sì 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 sì. Diamante e lapislazzoli. Quindi diamantongi. Lapislazzongi. Non 64. Vabbè che c'è un diamante solo. Quindi. Diciamo che. Non fa effetto. Ok. E questo. Lo mettiamo a fare così. Questo ce lo prendiamo. E aspettiamo che finisce. Oh la la. Ha finito. Questo ce lo prendiamo. Lo posiamo. Andiamo qui e facciamo. E facciamo allora. Questi. Magari un po' di più. Uno due. Tre quattro. Tre ce ne servono. Tre strati praticamente. Ma ci servono anche i cavi adesso. Sì. Incomincia. Dovremmo incominciare a fare qualcosa di molto più produttivo veloce. Tipo. A automatizzare un po' di processi. Perché se no. Qui si diventa un po' pazzi. Vabbè che comunque sia. Non ci serve tanto 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 tanto. Allora. Di questi ne mettiamo altri tre. Di questi. Lo riempiamo. E di questi. Lo riempiamo. In modo tale che lui ce ne produce. Sei. Che è quello che poi levamo. Da qui. Arriviamo a produrre. Questo. Ma ci mancano due cavi. E ci manca per i due cavi. Sì che ci manca. Il bullcloth. Prendiamo il bullcloth. No la bull. Questa qua non è bullcloth. Facciamo così. Ci creiamo altri sei cavi. Da qui. Dobbiamo crearci. E ce l'abbiamo. E poi andare qui. E creare. Ci mancano i due cavi grossi. Due cavi grossi ce li abbiamo qua. E via. Da qui. Creiamo. Questo. E voilà. Signori. Le j'ai un fait. Derien va plus. Abbiamo tutto quello che ci serve. Ok. Andiamo a installare. Ci abbiamo dei cavi grossi. Sì. Andiamo a installare il nuovo pannello solare. Saliamo qui. Arriviamo qua. Allora. Quello è installato così. Li faccio così. E poi prendo dei cavi. E faccio. Ta. Ta. E poi qui dentro ci metto la batteria. Che si ricarica. Quindi abbiamo 15.000 chilo joule. E di là lo stesso. Perfetto. Ci siamo. Allora signori. Abbiamo i due doppio pannello solare. Sarebbe bello farne quattro naturalmente. Però per adesso dovremmo avere abbastanza energia per fare quello che dobbiamo fare. Ovvero. Questo non ci serve. Questo ce lo lasciamo. Il compressor non ci serve più. Per fare questo. Ovvero. Bronzo. Alluminio. E stile. Dobbiamo produrre il più stile possibile. Eh già. Quindi. Iron. Questo lo posiamo. Questo lo posiamo. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. No. Questo ci serve. Uno. Due. Ok. C'è anche questo da posare. Perfetto. Andiamo qui. No. Qui. Allora. Vediamo un attimo. Dove sei? Qua. Facciamo tanto. Steal. Ok. Ah. Che ci fa questo? Oro qua. Che l'oro deve stare anche qua. Ora. Magari c'è un metodo più veloce per creare lo steal. Non lo so. Fatemi sapere. Perché questo è il metodo che ho trovato io. Magari poi. Si fa molto molto più velocemente con qualcos'altro. Già abbiamo doppiato la produzione. Magari questo. L'infuser c'ha. Un infuser più fico. Un infuser più fico. Tipo questo. Però questo non. Questo è per il gas però. Infatti. Non lo so. Bisognerebbe capire se. Ma soprattutto non conosco questi upgrade. Questi sarebbero capire. Sarebbe bello capire cosa sono. Questo dump è per buttare via la roba. Posiamo tutto. Andiamo qui. Posiamo anche questo. Come al solito sto morendo di fame. Naturalmente non avevo niente di cibo. In tasca. Perché. Sono morto un bel po' di volte. E mi dispiace tanto. E direi. Che. Per oggi abbiamo. Fatto. Abbastanza. Siamo riusciti a. A creare. Il nostro. Il nostro. Elettrico. Compressor. Compressor elettrico. Ok. Abbiamo creato il nostro. Secondo pannello solare. Eccolo lì. Bellissimi. Molto molto belli. Anche esteticamente. Complimenti a chi l'ha disegnati. E. Direi. Con questo sfondo lunatico. Direi che. Per oggi è tutto. Eh. 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 E alla prossima. Signori. Come sempre. Siete mitici. E. Grazie di essere stati con me. Bye bye. Bye. Siete. 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 Grazie a tutti.